eccomi a fare un video di aggiornamento sulla peugeot 208 gt by peugeot sport a distanza di 6 7 mesi quasi dall'acquisto ci ho fatto un bel 12 mila chilometri più o meno siamo qui a 29 mila 384 e non è stato necessario qualche rabbocco di olio perché molto molto fine uno 0 30 quindi è normale che ci sia un po di consumo però insomma su 12 mila chilometri ne ho messo un chilo sì e no forse un paio di rabbocchi da mezzo chilo circa per il resto la macchina va bene non ha dato nessun tipo di problema aveva un po paura visto quel che avevo letto soprattutto sulle prime versioni mi sembrava ci fossero problemi alla pompa gli iniettori per ora corna facendo non ci sono state nessun tipo di problema poi questo motore è un forse un po diversa un'evoluzione perché insomma questo è il quello by peugeot sport con 200 non mi ricordo quanti cavalli c'è tanta coppia questo motore tanta coppia e si sente bene sopra i 4000 giri tira che è una meraviglia io quindi sul motore e sulla meccanica non ho niente da dire scricchiolino non ci sono gli interni devo dire che stanno reggendo abbastanza bene anche il sedile del passeggero con tutto questo sali scendi e la mia macchina di tutti i giorni quindi uscirò ed entrerò dieci volte al giorno il fianchetto sul sedile ancora in perfette condizioni vediamo se si riesce a vedere molto bene no no devo dire che tutti gli interni sono ancora in condizioni buonissime queste plastiche non fanno rumore non scricchiolano no la macchina va bene rimane il drammatico sistema di infotainment che sarebbe meglio non averlo io non uso mai il navigatore non l'ho mai acceso uso sempre quello di google del telefono e che funziona decisamente bene anzi meglio il traffico in tempo reale quindi io non vedo la necessità di mettere i navigatori oggi su queste macchine e che devo dire il chilometraggio percorso con un litro di benzina da computer di bordo secondo me è molto ottimistico infatti ho una percorrenza media qui di 13 e mezzo che non resetto da tanto tempo è una media sul lungo sarà mesi forse non l'ho mai risettato comunque non è vero e 13 e mezzo secondo me è molto meno sono sempre il distributore quindi la macchina diciamoci la verità consuma poi io non è che uso proprio un piede leggero leggero neanche vado come un pazzo però se c'è da fare la tirata o l'accelerata non non mi riguardo altrimenti non prende questa macchina quindi secondo me i consumi sono ben sotto i 13 e mezzo io penso si farà 10 con un litro veramente però insomma alla fine pazienza voglio dire benzina ci si butta che si consuma sono fatte apposta per consumare benzina le macchine se la volevo elettrica se la volevo elettrica compravo un'altra cosa niente la macchina per il resto appostissimo l'assetto non ha avuto bisogno di nessun intervento non ho sentito la necessità come avevo sentito sulla opc di indurirlo di migliorarlo di peggiorarlo va bene non è un chiaro viaggiando sul lotus o sulla catera mr 500 sono quando scendi da quelle sali su questa sembra di essere su un furgoncino però è comunque una macchina che per un uso di tutti i giorni va bene non è che ti devi spaccare sulle buche si sente lo stesso e gli scossoni però voglio dire per un uso quotidiano è più che sopportabile un compromesso ottimo fra divertimento e comfort rimane una macchina da nuova secondo me molto costosa questo tipo di macchine vanno comprate usate per forza perché hanno una svalutazione bestiale dopo un anno un anno e mezzo le compri alla metà e quindi non non ha senso pagarle da nuove ho visto uscita la nuova fiesta st che è molto bella una macchina da 300 cavalli qualcosa del genere ma 40 mila euro ma no non ha senso capito 40 mila euro dopo un anno è dimezzata no si aspetta si aspetta che calino e si comprano dopo quindi che dire da nuova secondo me corsa opc aveva un rapporto qualità prezzo imbattibile per i 21 22 e la vendevano e delle dei dettagli secondo me anche degli interni di livello superiore questa è una macchina diciamo forse più focalizzata sulla meccanica sul telaio questo è io spero che non dia problemi di nessun genere ma per la verità non non me l'aspetto faccio le sue manutenzioni faccio i tagliandi quando li devo fare una cosa sempre riguardo il sistema di infotainment legato all'aria condizionata come ho detto quest'estate purtroppo quando c'è veramente un sovraccarico di caldo di richiesta di energia e la radio accesa i fari sull'autostrada e fa 40 gradi fuori l'aria condizionata non ce la fa e il climatizzatore stacca io sono quasi sicuro che va in protezione per evitare di fare danni peggiori non si capisce tutto a quest'elettronica poi se quando c'è 40 gradi serve l'aria condizionata devi avere un phone che ti spara addosso questa è una grandissima cazzata la toyota che è un 4200 6 cilindri in autostrada può fare 50 gradi tieni l'aria condizionata a manetta dentro stai con i calzini e il cappello di luglio qui insomma fa fatica e poi ripeto va nonostante abbia chiesto in peggio ma come mai ho fatto una ricarica forse mancava un po di liquido però è risuccesso è successo due o tre volte quest'estate quindi sono quasi certo che è un sistema della centralina che manda in protezione la il climatizzatore lo fa staccare quindi insomma è cazzate dell'elettronica io continuo a boicottare fortemente questa già mi sembra molto tecnologica c'è da preoccuparsi sulle prossime macchine che cosa che cosa ci aspetterà perché il mio collega ha comprato l'audi a 3 nuova che c'ha questi cazzo di adas che non ci riesce di cambiare corsia se non mette la freccia e gli frena all'improvviso no ragazzi no non ci siamo no non ci siamo